Cominciamo allora dalla riete. Cresce il desiderio di muoversi, spostarsi, comunicare. Vi riuscirà bene tutto quello che è connesso al viaggiare. Brillanti e pieni di risorse, la vostra vita sociale sarà in primo piano. Toro, focus sulla famiglia questa volta. Reagite all'atmosfera un po' pesante della giornata puntellandovi a terra. Avete bisogno di rimanere ancorati alla dimensione pratica. Qualche acquisto sfizioso non ve lo farete mancare. Gemelli, un confronto con il partner può iniziare da un litigio, ma si rivela utile a conoscervi meglio. Sul lavoro trattative complicate, l'interlocutore schivo e indecifrabile. Non è facile portare a casa il risultato. Cancro, nell'aria la sensazione di un cambiamento. Nessuno tra i colleghi sa qualcosa di preciso, ma la preoccupazione è diffusa e metti in agitazione anche voi. Poco spazio per i sentimenti e il rapporto a due. Leone, amici e partner entrano in collisione su questioni di principio che stranamente lasciano indifferenti proprio voi. La contesa però è aperta. Voi nel mezzo, ma sicuri, di ciascuno avete un giudizio obiettivo. Vergine, siete lunatici non per carattere, ma per condizioni planetarie. I settori più colpiti, la famiglia e la coppia. Nervosi e irritabili, qualsiasi cosa facciate, la fate di mala voglia e protestando. Bilancia, siete in ottimi rapporti con tutti, ma nell'ambiente c'è chi si guarda in cagnesco. Vi calerete perfettamente nel vostro ruolo di abili mediatori. Vita sociale intensa e appagante. Scorpione, comprensibile ma inutile preoccuparsi per il futuro. Tutto è in fase di trasformazione. L'essenziale al momento è tenere un piede nella barca. Tenerezza e possessività si intrecciano invece nelle vostre relazioni. Sagittario, astrali disarmonie contrastano le vostre energie e la visione fiduciosa del futuro cede il passo a un'impalpabile sensazione di incertezza. Avete molto da fare per voi stessi e anche per chi vi è accanto. Capricorno, le cose stanno cambiando intorno a voi, ma non siete certi tipi che si lasciano condizionare dagli eventi o si fanno cogliere impreparati. Siete pronti a riparare qualche errore mettendo definitivamente a tacere voci allarmistiche. Acquario, amate il partner e adorate i vostri figli al punto che siete pronti a cancellare il numero di telefono di chi spende più di due parole contro di loro. Avrete amici da selezionare allontanando chi è troppo invadente, pesci, braccio di ferro tra famiglia e carriera. La prima reclama la vostra presenza, siete sempre così distratti. La seconda vi vuole più zelanti. Sotto accusa in entrambi i casi la vostra facilità di allontanarvi dai problemi invece di affrontarli. Grazie a tutti.